Svegliati nella notte da un boato in zona tortaia ad Arizzo nell'immediata periferia della città, il mistero sul perché di quel colpo così assordante si è risolto velocemente. Ci sarebbe stato infatti un tentato furto all'interno del supermercato PAM, dallo storra nessuna conferma ufficiale ma pare che alcuni banditi siano arrivati nel piazzale del centro commerciale attorno alle 4 del mattino per poi tentare di scassinare la cassa automatica forse con dell'esplosivo, a metterli in fuga l'arrivo di una guardia giurata in perlustrazione per il servizio di controllo notturno. Il vigilante avrebbe anche sparato un colpo in aria a scopo intimidatorio. Ah, qualcuno che ha sparato? Sì, ho avuto anche un po' di paura. Scongiurata quindi quella che sarebbe stata forse una razzia indisturbata all'interno del supermercato. Eh, ma hanno raccontato niente, che c'erano state delle persone che avevano messo una bomba nella cassaforte avevano provato ad aprirla e nel mentre stavano tornando indietro per aprirla c'era due pattuglie di vigilanza qua e una pattuglia di polizia. Immediato all'intervento della polizia sul posto sono in corso le indagini per rintracciare gli autori del tentato furto ma al momento nessuna traccia. Grazie a tutti.